Con Juan Manuel Iturbe sul pallone anche Daniele De Rossi è pronto con il mancino Iturbe tutto pronto si avvicina anche Daniele invece va Iturbe e c'è il gol della Roma con Juan Manuel Iturbe ha trovato Alessio una grande giocata il suo secondo gol il primo l'ha realizzato su calcio di rigore questo su calcio di punizione una grande esecuzione con il sinistro di Iturbe Roma in vantaggio non so se è stata sporcata la sua punizione se è stata deviata passa tra due giocatori della barriera e così va a incannare forse avrebbe girato anche di più però Alessio la palla che viene un po' snorzata si disuniscono gli uomini